Non sono qui per un nuovo spazio meteo, gli spazi meteo che abbiamo tutti i giorni qui ad una mattina e non solo. Vi raccontiamo se pioverà, se ci sarà il sole, se farà freddo, se ci sarà il vento. Ma cosa c'è dietro tutto questo? Roberto con Maurizio Amici e Carlotta Ricci sono andati presso il centro operativo per la meteorologia di pratica di mare a vedere proprio come nascono le previsioni, ad incontrare il personale e a vedere quanta tecnologia c'è. Tenente colonnello Guido Guidi, buongiorno. Buongiorno, eccoci. Qui le previsioni sono bruttissime, ma insomma proprio così brutte, no? Attenzione perché questo è delicato. Servono persone esperte, formate per dare questo tipo di informazioni. Molti si improvvisano a fare questo lavoro, dietro invece che cosa c'è? Dietro c'è un mondo, dietro c'è un'organizzazione molto vasta che fa un sacco di cose, per la verità, raccoglie dati. Allora io vorrei vedere che cosa c'è dietro questo computer e che valore aggiunto porta a questa divisa. Come possiamo fare? Dobbiamo andare a pratica di mare, andiamo al centro operativo per la meteorologia, andiamo a vedere dove nasce la meteorologia, dove nascono le informazioni che poi diffondiamo per il paese. Allora andiamo a seguire cosa c'è dietro a tutto questo. Guido, questa è un po' la tua casa. Questa è assolutamente la mia casa, è la casa del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare. Quando ti fermano per strada che ti chiedo? Sempre che tempo fa. Ma come hai iniziato questo lavoro? Hai iniziato per passione. E cosa significa per te, mentre entriamo, indossare questa divisa? Significa far parte di un'organizzazione assolutamente coesa e che di fatto, esattamente come hai detto prima, è la nostra casa. Mi hai portato in una stanza piena di robe elettroniche. Beh, questo è il cuore tecnologico della meteorologia, del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica. Noi lo chiamiamo il supercalcolatore. È effettivamente un sistema di calcolo ad elevata capacità che è assolutamente necessario per la meteorologia dei giorni nostri. Dietro a tutto questo però c'è l'uomo. Fatta la previsione dai modelli, ci vogliono le persone capaci di interpretarla, di elaborarla, per gli usi più disparati. Innanzitutto la navigazione aerea, militare e civile, ma poi anche la meteorologia generalista o la protezione civile. Quindi tutte informazioni organizzate con linguaggi diversi, ma che alla fine devono mandare un messaggio univoco. A me lo dai un consiglio per quelli che maneggiano questi dispositivi e magari si affidano anche a dei siti un po' truffaldini, diciamo? No, no, io non assegnerei graduatorie. Direi semplicemente che il mondo della previsione del tempo, la scienza delle previsioni del tempo, ha un ottimo margine di attendibilità nel brevissimo periodo. Un giorno, due giorni, tre giorni possiamo stare tranquilli più o meno da tutte le fonti che ci sono in giro. È questa la ragione per cui sulle nostre fonti di informazione, anche sul web, il portale, piuttosto che l'app, non andiamo mai oltre i cinque giorni. Perché sappiamo inevitabilmente che l'attendibilità dell'informazione cala. Cosa succede in questa stanza? Qui elaboriamo previsioni e diffondiamo previsioni che sono di diverse tipologie e quindi per diversi utenti. Andiamo ovviamente dalla previsione di tipo squisitamente aeronautico, il nostro core business ovviamente, e quindi le previsioni di tutti i fenomeni meteorologici per il volo, che ovviamente assicurano per chiunque voli, atterri, decolli o si trovi a passare sui nostri spazi, tutte le informazioni meteorologiche per una condotta regolare e sicura. Che sono di vitale importanza, precisiamo. Assolutamente sì. Maggiore, in che cosa consiste il suo lavoro? Effettuiamo degli avvisi di burrasca per vento forte o temporali previsti o di natto e eventuali fenomeni intensi sul Mediterraneo. Questo è essenzialmente il lavoro di cui ci occupiamo. Come ha cominciato? Ho iniziato ruolandomi in aeronautica subito dopo aver finito il liceo scientifico. Ho effettuato, grazie all'aeronautica, un corso di specializzazione della durata di circa un anno e sono poi approdato al centro operativo per la meteorologia. Adesso siamo nella nuova frontiera della meteorologia, così la potremmo definire. Con la tecnologia che usiamo oggi e con l'ambiente nel quale opera questa tecnologia diventa via via più importante capire anche cosa succede ben oltre, ovvero nello spazio interplanetario tra il Sole e la Terra. Giovanissima, buongiorno. Buongiorno. E lei è? Sono il tenente Marcucci e sono nella sezione appunto di previsioni atmosferiche e space weather, che è una disciplina, come diceva il comandante, piuttosto nuova, che si occupa di studiare e di descrivere quelle che sono le conseguenze della radiazione elettromagnetica proveniente dal Sole e dell'attività solare proprio su tutti i nostri impatti tecnologici, come le comunicazioni. Il rischio di esposizioni ad alte dosi di radiazioni per gli equipaggi o eventualmente per gli astronauti, delle interferenze con i radar o un errore nella posizione del GPS. Quindi praticamente sono previsioni dallo spazio o per lo spazio? Mi faccia capire. Sono previsioni per lo spazio, qualcosa che avviene nello spazio ma che può avere impatti anche su tutti noi, visto che ultimamente siamo tutti dipendenti ovviamente dalla tecnologia. Come decide di arrivare a fare tutto questo? Sì, io sono laureata in fisica nucleare. Ah, detto niente. Sono entrata in aeronautica tre anni fa e mi sto specializzando appunto con diversi corsi anche all'estero in questo settore. Quindi l'aeronautica, possiamo dire che si prende le persone migliori, le teste migliori che ci sono in giro e poi ne accompagna la formazione più avanzata? Sì, che siano le teste migliori, questo non sono io a dirlo, però sì, è questo che accade. Non è che passasse per strada, insomma l'hanno presa da... Sì, sì. Ha scelto lei? Sì, certo, è stata la mia scelta. Senta, ma quando lei l'ha comunicato a casa, no? Che han detto? All'inizio non l'hanno presa proprio benissimo. Perché cosa pensavano? Ma niente, ogni tanto l'ambiente militare può spaventare, invece poi adesso ovviamente vedono me contenta e sono contenti anche loro. Allora, quando vedete il colonnello Guido Guidi con i suoi colleghi che fanno le previsioni in studio, insomma, sapete che adesso sapete che c'è dietro tutto questo. Beh sì, in particolare qui siamo sul tetto del nostro centro. Prima si parlava di telecomunicazione, abbiamo visto quali sistemi tecnologici impieghiamo per lo scambio delle informazioni. Una parte di queste informazioni arrivano naturalmente dai satelliti. Ecco Guido, ti ringrazio per averci portato nel tuo mondo, che è anche il nostro, perché l'aeronautica è di tutti noi. Grazie a voi per essere venuti, ovviamente. Senti, ti dico una cosa, ci arrivo da solo che sta per piovere. Scappiamo prima che arrivi no. Ma ti dirò, guarda, minaccia ma non è detto. Ahia, ahia. Ahia, ahia.